Sosteniamo questa iniziativa perché crediamo che sia importante investire nella salute soprattutto dei nostri bambini. Da questo punto di vista crediamo che sia un loro diritto anche avere un accesso al cibo di qualità e così stiamo lavorando sulla tracciabilità dei prodotti insieme a Plasmon affinché anche nella fascia da 0 a 3 anni ci siano prodotti 100% italiani che coinvolgano quindi gli agricoltori in un lavoro molto importante perché sappiamo quanto siano stringenti le norme a tutela della salute dei bambini e dall'altra parte dare un valore a chi trasforma in Italia da prodotti di filiera completamente italiana. Per questo Coldiretti è qui e per questo Coldiretti continuerà a impegnarsi al fianco di agricoltori ma anche di trasformatori che sappiano davvero valorizzare il Made in Italy.